1-0-0 noioso tra squadre tranquille ormai appagate. Il Bari ha centrato l'obiettivo del quinto risultato utile consecutivo. La Lazio ha guadagnato il punto che aveva programmato alla vigilia. Assenti gli inventori di gioco, da una parte Maiellaro, dall'altra Di Cagno, l'incontro ha offerto rari spunti di interesse. Al quarto d'ora la Lazio ha avuto una buona opportunità per vivacizzare la partita. Amarildo ha però calciato su Mannini. Il Bari ha replicato al 29esimo con un cross di carbone deviato in angolo da Fiori. Dalla bandierina Gio Paolo con un tiro tagliatissimo ha costretto il portiere laziale con l'aiuto della traversa a deviare nuovamente in corner. Gio Paolo ha cercato di scuotere il Bari saltando come birilli i difensori avversari che lo hanno fermato in maniera rude. Nella ripresa la migliore opportunità è capitata ancora alla Lazio. Fuga di Bertoni e palla pulita al centro per Pin che ha perso però l'attimo buono ed ha consentito a terra cenere di allontanare l'insidia. Ancora Gio Paolo ha tentato di sorprendere l'attenta retroguardia laziale che ha avuto un attimo di sbandamento al ventunesimo ma Scarafoni si è fatto anticipare da Fiori.